Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo outfit Per fare questo completo abbiamo bisogno di una di queste tute Può essere gialla, bianca, nera, azzurra, insomma come vogliamo Una volta che abbiamo una di queste tute Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a farti superiori E dobbiamo cercare speciali ragazzi A questo punto quando abbiamo trovato speciali Dobbiamo andare a... Scusate ma mi sono picciato A cercare queste felpe Queste felpe con la scritta Nagasaki E l'altra felpa Allora una volta che abbiamo indossato queste felpe Che cosa succede? Succede che si baggerà E ci rimarrà solamente il pantalone Questa specie di jogger colorato insomma Con... Con gli anfibi insomma Con lo stivale che possiamo cambiare Non possiamo cambiare tantissimi stivali Però alcuni possiamo metterli Io però ho scelto di lasciare questi Perché a me piacciono questi Allora andiamo avanti con... Con il resto del completo Che è abbastanza semplice ragazzi Io lo sto facendo da casa Perché avevo già tutto comprato E quindi non sono andato per niente in negozio insomma E quindi sto facendo tutto da casa Allora mi raccomando ragazzi Quando avete il tutto Salvate sempre ogni passaggio che fate Allora a questo punto Che cosa andremo a fare? Andremo a mettere un paracadute Ragazzi questo completo è veramente semplicissimo da fare Ha poco di baggato Diciamo pochissimo di baggato Però è... È molto carino Quindi andiamo a mettere il paracadute della Svezia ragazzi Che riprenderà molto con i colori che andremo a mettere E una volta messo il paracadute Andiamo a mettere una maschera Cerchiamo una maschera E... Va bene Io intanto imposto il paracadute Poi andiamo a mettere una maschera Io metto quella nera con... Con i lampi Che a me piace tantissimo come maschera Con i lampi gialli È molto particolare Però ce ne sono anche altre Che magari potrebbero piacere A me invece Diciamo piace Abbastanza questa E quindi nulla Vado a mettere questa insomma Le chiacchiere stanno a zero ragazzi Allora A questo punto una volta fatto ciò Andiamo a salvare il completo Lo salviamo così com'è E mancheranno gli ultimi due passaggi da fare Adesso andiamo a vedere quali sono questi due passaggi Insomma Andate verso... Andate al telescopio in casa O comunque in spiaggia E... Correte verso il telescopio Premete... Insomma lo sapete tutti Come far baggare il tutto E andate a cercare occhiali E mettete gli occhiali di lusso Ice Sono quelli in pratica con le lenti gialle e azzurre ragazzi Quindi una volta messi Ci sono anche altre varianti che potrete mettere Potrete mettere la variante gialla La variante lime La variante da tiratore Poi dipende tutto dal vostro gusto che avete E' quello che vi piace di più Insomma Io comunque vado a mettere gli occhiali di lusso Quelli che vi ho detto Ghiaccio Ice Una volta fatto ciò Mi allontano dal telescopio E automaticamente Come state vedendo Abbiamo gli occhi Baggati Diciamo, no? Questo occhiale baggato sotto Sotto la maschera Che ha un bel effetto A questo punto andate a salvare il tutto E l'unica cosa che manca ragazzi E' un cappello Io Vado a mettere un cappello Diciamo una cuffia di lana Perché a me piaceva così Mi è piaciuto Fin da subito Però non vado a salvare ragazzi Guardate bene di non salvare questo passaggio Lo dovete salvare dopo Quindi metteremo una cuffia di lana Io metto questa cuffia di lana nera E scendo in strada Scendete in strada Prendete un'auto ragazzi E fate il glitch Per passare il cappello da un completo all'altro In pratica dovete stare su paracadute Una volta che siete su paracadute Selezionate il completo che volete modificare E avrete il vostro completo modificato Insomma Mentre salite Selezionate il completo Come state vedendo nel video E automaticamente avrete il vostro completo modificato Ragazzi Adesso vi faccio vedere entrambi i completi come sono Perché ci sono le varianti di due felpe Detto questo ragazzi Spero che il completo vi piaccia Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti